... Oh, guarda che fuori, scogliattolo! Sì, ci sono tutti i cittadini, sono tutti qui, 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 qui... C'è una colapia, e qua, là, qui. Sì, che è lì! Alla scelzi! Sì, non è la scelziata per la torre. Sì, sì. Alla scelzi! Alla scelzi! Pupup! È lì! E' molto particolare. Hack day bella isi scassi scassi ck scassi Grazie a tutti. Grazie a tutti.